Complimenti e grazie, è il primo sindaco di Roma che si degna venire. Paolo, dal 1997 stavo qui. Grazie comunque, a nome di tutti i banchi. Non pensiamo a una banchetta magica che da oggi a domani si possa cambiare, ma pensiamo a un vero interesse di vedere questo mercato. Grazie signora, grazie a lei. Grazie, buongiorno, 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 buongiorno. Sicuramente qualcosa cambierà, cambierà. Sono sicuro? Ma è lassù? Piano piano, piano piano, dietro, dai. Sì, c'è. Grazie a tutti.